Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Aurora, che ci aiuterà nella canzone di... Anna Lisa, che si chiama Monamour. Monamour, di Anna Lisa. E tutto questo dopo... La sigla. La sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi. La tonalità originale è in Do minore. Però per semplificare un po' tutti gli accordi, la faremo mezzo tono sotto, quindi in Si minore. Vi ricordo che il Si minore sono le note Si, Re, Fa diesis, formano il Si minore. Quindi poi avremo il Mi minore, andiamo indietro. Mi, Sol, Si. Poi troveremo il Sol maggiore, Sol, Si, Re. E poi Re maggiore, Re, Fa diesis, La. E La, sempre maggiore, La, Do diesis, Mi. E gli accordi non cambieranno mai. Vi facciamo ascoltare. La canzone inizia così. C'è un intro. Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi uh, ce ne siamo distesi. Ah, sapessi che già spesi. Uh, colazioni francesi. Ah, con gli eventi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sfera. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. E gar son, ho un'idea. Lei. Fa c'è un intro. Lei. C'è un intermezzo. E poi riparte. Lei, un movimento tecnico. Lui, un sorso con l'arsenico. Io rimango sola come minimo. Sexy boy, sexy boy, allora io ci sto. E domani non lavoro, quindi, uh, ce ne siamo distesi. Ah, sto pensato già spesi. Uh, colazioni francesi. Ah, con gli avversi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, babbo tra le lampade e sfera. Lei mi piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. E dal son, un'idea a lei. Sempre l'intermezzo. Lei. Visto lei che bacia a lui. Mi ricordo che noi possiamo accompagnare questa canzone, no? Semplicemente in questo modo, già più lento. Oppure raddoppiando il tempo. Insomma, questo poi gestitelo voi. Per dare un po' di movimento, io lo faccio prima un po' più lento, magari nella strofa, e poi nel ritornello acceleriamo un po'. Andiamo avanti. Ho visto lei che bacia a lui. 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 Dovrei, non dovrei dirti che ho visto. Ho visto lei che bacia a lui. Che bacia a lei. Che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera. Ballo tra le lampade sfera. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui. Che bacia a lei. Che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. E gar son, ho un'idea. Lei, lei, disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. E gar son, ho un'idea. E la canzone finisce così. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Aurora per averci aiutato. E quando voi vieneci a trovare, noi faremo altre cose insieme. Perché lei è molto brava, l'avete sentito? È molto brava. Anche se ha soltanto 10 anni. Però insomma, a volte ci servirai per imparare queste canzoni. E dicevo, vi ricordo inoltre di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto. E di mettere un like e di attivare la campanella così ogni qualvolta vi esce un video nuovo e arrivi una notifica in modo da poterlo guardare subito. Va bene? Ciao a tutti!